Una mattina diversa per gli oltre 320 piccoli studenti della scuola primaria Gianni Rodari di Ponte Bugianese. Per alcune ore infatti, anziché alle consuete lezioni in classe, gli alunni insieme ai loro insegnanti hanno partecipato alla presentazione ufficiale degli interventi di manutenzione straordinaria realizzati in alcune parti delle infrastrutture dell'edificio. Lavori finanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per un importo di 41.000 euro. La scuola è stata interessata attraverso la sostituzione di una vetrata di tutta la parte anteriore della scuola primaria e la collocazione di pellicole all'interno delle aule per migliorare le condizioni ambientali di vita interno alle classi. È una soddisfazione che ha potuto fare lavori in tempi anche piuttosto sceleri grazie appunto all'intervento della Fondazione Cassa di Risparmio. Qui in particolare, questa occasione di oggi, è un'iniziativa che rientra nel progetto Cantieri Aperti cioè sono interventi che vengono fatti a vantaggio dei comuni ma per progetti che sono già stati pensati e preparati dal punto di vista dell'intervento del cantiere di tutte le procedure che servono a iniziare i lavori, messe in sicurezza eccetera eccetera. Quindi il nostro intervento è di finanziamento di un progetto pronto a partire e in questi interventi sui cantieri aperti abbiamo dedicato una cifra globale di 2 milioni a vantaggio di progetti che avessero prevalentemente che riguardassero le scuole, le biblioteche, l'ambiente, le piste ciclabili e così via. La scuola primaria Gianni Rodari conta 324 alunni distribuiti in 16 classi e fa parte dell'Istituto Comprensivo Don Milani di Ponte Bugianese e Chiesina 9 plessi scolastici per un totale di 1.400 alunni. La manifestazione è stata anche colorata e vivacizzata dalla presentazione dei lavori eseguiti dagli alunni all'interno del progetto Ambiente. È un progetto legato all'ambiente perché i nostri studenti e le nostre insegnanti sono molto attenti a quello che è il mondo che ci circonda. È bene che i bambini imparino fin da piccoli come rispettare l'ambiente e quali sono i principi fondamentali per fare ciò.